Vitamine, magnesio, potassio, omega 3 ma anche melatonina e aminoacidi. Le farmacie comunali di Pesaro del gruppo Aspes hanno deciso di scontare del 20% gli integratori, prodotti non mutuabili ma necessari per tante patologie come per esempio la fibromialgia, una malattia che colpisce soprattutto le donne in età adulta e si manifesta con dolori diffusi e intensi a muscoli e tendini. Una bella iniziativa che offre aiuto concreto e che dimostra una grande attenzione verso i cittadini. Sollecitati dall'associazione Leali di Hauser abbiamo preso la decisione insomma di proseguire in quello che è il mandato che abbiamo avuto, che le farmacie comunali nascono appunto per svolgere un ruolo sociale a sostegno degli utenti, delle popolazioni in cui operano e abbiamo deciso di mettere oltre 20 prodotti con il marchio farmaciecomunali.it che sono prodotti su nostra licenza in commercio con uno sconto del 20% proprio per venire incontro a quelle che sono le spese che le tante persone che vengono colpite da questa patologia hanno per poter alleviare le loro sofferenze. A illustrare l'iniziativa anche Roberta Baldi, presidente dell'associazione Leali di Hauser. Uno sconto dei 20% sugli integratori è uno sconto molto importante. Gli integratori ci aiutano molte volte a contenere il dolore e chi soffre di fibromialgia vive in un dolore costante. Sappiamo che purtroppo questa patologia dai dolori muscolari, dolori di ogni genere diffusi. Convivere con questi dolori diffusi non è facile quindi l'aiuto con gli integratori è fondamentale. Devo ringraziare Luca Pieri, devo ringraziare le farmacie comunali che ci hanno accordato questi sconti. È un momento davvero importante per tutti noi. Gli sconti del 20% attivi da oggi venerdì 3 maggio sono rivolti a tutti e non solo a chi ha patologie diagnosticate. Un bel segnale che conferma come le farmacie comunali siano il primo avamposto del sistema sanitario sul territorio, commenta il presidente di Aspes.